La rete del parziale vantaggio irpino giunge al diciannovesimo. Cross teso di Bergossi, corti buca l'uscita, sul pallone sono Vignola e Chiarenza ed è proprio l'ex Avellinese a toccare con una gamba infilando la propria porta. Da Cattaneo a Causio che smista verso Virdis appostato sul vertice destro dell'aria, secco diagonale che piega le mani di Tacconi.